Musica Amici di Onda Livre TV, siamo a Fanno per la presentazione di un libro di due ragazze fanesi. Io lo faccio da me, Giovanna Olivieri e Chiara che ci racconteranno un attimino come è nata questa collaborazione, da cosa è nata l'idea e sembra che abbiamo trovato un'occasione per da un momento di crisi poter creare delle nuove possibilità. Questo libro ci racconta un po' come fare questo. Ci racconti qualcosa di più dettagliato? Sì, dunque, come è nato questo libro? Vabbè, è nato dalla mia esperienza personale, nel senso che tutto quello che io racconto nel libro sono cose che faccio normalmente a casa, nella vita quotidiana, quindi tutto sperimentato. L'idea è nata dal fatto che, essendo traduttrice, fino a qualche anno fa traducevo dei libri più o meno di questo argomento, quindi recupero, risparmio, uso di sostanze naturali per le pulizie, eccetera. E quindi, insomma, traducendo, traducendo, mi è venuta voglia di scrivere anche a me un libro. E ho detto, ma anche io avrei qualcosa da dire su questo argomento, ho detto, ma magari ci provo. Però, insomma, la gestazione è stata abbastanza lunga perché inizialmente non avevo proprio un'idea di come cominciare, come riordinare le idee, eccetera. Poi alla fine ho detto, dai, proviamo, insomma, così. E poi invece la nostra collaborazione, questa me la racconta la Chiara, com'è nata? È nata che io ho fatto un disegno di benvenuto per la figlia di una nostra amica. Giovanna è andata a trovare la nostra amica, ha visto questo biglietto e ha chiesto chi l'avesse fatto. E sta ragazza ha detto, eh, l'ha fatto la Chiara. Lei ha detto, eh, ma la Chiara disegna così, allora bisogna che la contatto perché ho un'idea e vorrei svilupparla. Magari lei è la persona giusta per, insomma. In realtà, prima è cominciata collaborazione per un altro progetto che ancora ci abbiamo in piedi, che sono dei racconti sugli animali, insomma, per avvicinare i bambini all'ecosistema, eccetera. Quello ancora sta andando avanti, nel senso che non ce l'ha pubblicato nessuno, però ci stiamo provando. E però poi, invece, questo è andato avanti prima dell'altro. Quindi c'è stata una casa editrice, effettivamente, che ha dimostrato interesse. Allora io ho proposto Chiara come illustratrice. E ho fatto molto bene, perché poi ci siamo trovate molto. Quindi io magari le dicevo al volo quello che volevo che lei disegnasse. E quando lei mi faceva vedere la tavola, io dicevo, ma hai fatto proprio come volevo io, ma di più, perché ci metteva in mezzo dei dettagli che magari non pensavo. Oppure chiariva dei concetti che io avevo espresso a parole, ma magari non sempre in maniera chiarissima. Con le sue tavole sono riuscite ancora più immediate. Quindi i disegni spiegano una descrizione di quello che è la ricetta, tra virgolette. Escludendo il capitolo 3, perché è un capitolo sull'orto, che erano, comunque ci sono delle illustrazioni di un altro disegnatore. Io, sì. Perché la casa editrice ha utilizzato delle sue immagini che aveva di repertorio, e quindi lì hanno utilizzato quelle. Però tutto il resto è creato apposta per il libro. E sono delle schede che sono a lato del testo, che implementano, diciamo, il testo. Perché questo nasce per delle persone che non sono abituate magari a fare queste cose. Quindi per renderlo ancora in maniera più semplice abbiamo adottato questo sistema. Ecco, a chi è dedicato il libro? Cioè, a chi è indirizzato? Secondo me, nel senso, io penso che qui dentro ci siano consigli banali. Cioè, in certi casi ho scoperto l'acqua calda, cose che magari anche altri già fanno. E poi ci sono cose che magari alcune persone, a cui alcune persone non avevano mai pensato. Come dico, cose banali, non è che qui dentro ci sia, no, delle chissà che genialata. Però piccole cose che secondo me, messe insieme, riescono a costruire i vari tasselli, l'insieme, diciamo, di una vita quotidiana, un po' all'insegna del rispetto dell'ambiente. Facci un esempio concreto. Di cosa consiglio io? Beh, in generale, cioè, il libro è strutturato in sei parti, partendo dalle pulizie, con l'utilizzo di sostanze che tutti noi abbiamo in casa, come l'aceto o anche il bicarbonato. Spesso si trova in casa, c'è chi magari lo usa anche come agente lievitante, magari per i dolci, eccetera. E io dico, ci sono cose che abbiamo in casa, perché dobbiamo andare ad acquistare dei prodotti magari specifici, costosi, per la pulizia di singole cose, non so, del bruciatore, dei fornelli, oppure del, non so, il disgurgante per il vato o per altre cose, quando hai delle sostanze che non costano niente, fondamentalmente costano veramente poco, in proporzione, non inquinano niente, e le puoi usare tranquillamente e il risultato è lo stesso. E allora da questo è un po' nato il tutto, poi si è sviluppato anche nella seconda parte che riguarda la cucina, quindi cercare di cucinare, di ritornare a cucinare, perché io rimango molto colpita dal fatto che oggi la gente non ha più tempo da dedicare alla cucina, quindi molti, insomma, proprio per motivi di tempo, acquistano cibi già pronti, già preparati, già cucinati. E invece dico, cerchiamo di tornare un po' a cucinare a casa, seguendo il ritmo delle stagioni, non ci lasciamo sempre, sempre indurre all'acquisto delle offerte speciali, no, che poi lo facciamo tutti, lo faccio anch'io, cioè non è che no, io sono poi la bosca bianca, però qui cerchiamo un attimo di essere più vicini alla natura, ai suoi ritmi, perché sicuramente mangeremo meglio, mangeremo con più gusto, anche la preparazione è bella, farla, se uno riesce a farla con la calma, è bello anche coinvolgere i bambini, e questo mi ricollego all'ultimo capitolo, non ve li dico tutti, se no, è l'ultimo che è dedicato ai figli, e in cui io dico, ma invece di passare una giornata al centro commerciale, no, perché non dedicate un pomeriggio con i figli a fare la pizza in casa, a fare cose semplici, però per loro divertenti. Quindi è un libro che fa risparmiare soldi, tempo? Secondo me sì, nel senso che, tempo forse no, perché io dico che bisogna metterci il tempo nelle cose, soldi sì, perché comunque, oddio, anche lì bisogna prendere le giuste misure, ovvero, è possibile andare avanti, secondo me, con un budget ridotto, comprando tutto, però dopo bisogna vedere qual è la qualità di quello che tu compri. Secondo me non puoi mettere sullo stesso piano le cose che tu fai in casa, biologiche, possibilmente rispetto a quelle prodotte in maniera industriale, quindi se mettiamo quello che noi facciamo in casa, lo mettiamo sul piano di un prodotto analogo per proprietà organolettiche, per qualità, allora dovremmo indirizzarci su quelli biologici, perché però, purtroppo, costa un occhio della testa, se tu te li fai in casa e riesci a farli in casa, sicuramente risparmio c'è. Dove è possibile trovare questo libro? Solo online o...? In teoria anche in libreria. È una piccola casa editrice, si chiama Terra Nuova Edizioni di Firenze, e quindi non ha una grandissima distribuzione, è un pochino di nicchia, perché è una casa editrice che si dedica molto alla cucina naturale, alla coltivazione biologica, eccetera. Sicuramente online si trova, sul loro sito, comunque digitando, è facile, insomma, trovarlo. E poi speriamo che si riesca a trovare anche in molte librerie. Quindi stasera faremo la presentazione ufficiale, l'inaugurazione, diciamo, del libro? Sì, via Fano sì. Perfetto. Allora vi faccio tanti auguri, spero che vada benissimo e ce li vedremo una prossima volta. Grazie. 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 Grazie.